Benvenuti al personaggio della Porta Accanto, introduce il nostro regista Omara Agresti. Buonasera e benvenuti anche questa spedetta serata con il nostro ospite d'eccezione il dottor Alberoni e il nostro presentatore d'eccezione Andrea Ventilini. Allora, benvenuti al personaggio della Porta Accanto. La nostra trasmissione si basa su un'intervista in tono amichevole ed informale. Perché oltre al personaggio c'è la persona, con la sua sensibilità, con la sua simpatia, con la sua forza e anche le sue debolezze. Tutto questo ci permette di conoscere meglio la persona e capire anche il suo modo di pensare e di agire. Ma iniziamo subito con il professor Francesco Alberoni, a cui, dato il format della trasmissione, darò del tu. Buonasera Francesco, come stai? Tutto bene, abbastanza bene. Mi sono avuto un problema a questo istante perché mi sono rotto il femore. Però in un mese e dieci giorni di ospedale la mia figlia ha recuperato molto bene. In questo momento cammino e aspetto di fare le ultime pratiche per poi potermi muovere liberamente per la città. Un leone come sempre. Dove sei nato? A Burgonovo, Baltidone. Un piccolo paese sulle... Niente, al di là del Po, nella zona... è vicino alla zona dell'Otre Popovese. In realtà è piacenta. E che studi hai fatto da giovane? Da giovane ho fatto medicina, però poi non ho mai praticato la medicina perché prima mi sono occupato di psichiatria, poi anche mi sono occupato di genetica, di matematica e alla fine sono approdato oltre alla psicologia, alla sociologia, di cui oggi che uno mi domanda cosa fai, io rispondo faccio il sociologo. Ma dopo un lungo viaggio, ecco. E il primo vero lavoro? Il primo lavoro, il vero lavoro, è stato quello di essere assistente, se c'è volontario lo chiamavano, intanto ti davano 25.000 euro, oppure una camera, ma io avevo la camera vicina all'obitorio, stavo molto bene, e a medicina legale, quindi come primo lavoro ho fatto il medico legale. E qual è il lavoro invece che nella tua vita ti è piaciuto di più o che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Il lavoro che mi è piaciuto di più, che non è un vero lavoro, perché è lo scrivere, è il parlare, il costruire, è stato probabilmente proprio la scrittura, cosa a cui io non pensavo, io non avevo lontanamente idea di diventare un altro del mondo perché scrivevo, proprio, non mi è venuta in mente, ma viceversa mi è andata bene, probabilmente in quell'epoca storica c'era bisogno di cose come quelle che facevo io, lo studio dei movimenti e delle effervescenze, sai il 68, no? Tutto il mondo è in ebollizione di quell'epoca e io sono diventato un po' un protagonista di quell'epoca lì, me la sono cravata dignitosamente anche con i libri e questa è la mia vita, insomma, io sono, ho studiato l'amore, ho studiato i movimenti e ho studiato le grandi passioni. Quanti libri ha scritto, se lo ricorda? Non è in molti, sì, una trentina, ma non sono tutti uguali, eh? Ne ha uno preferito? No, ci sono alcuni più belli, sono più intensi, Innamoramento e Unro è un libro intenso, Movimento e Istituzione è un grande libro, è un classico ormai della sociologia, e poi un libro bello, che io considero bello, è quello che ho dato, credo, mi hanno fatto una coppia anche a te, Il rinnovamento del mondo, quello fatto insieme a Cristina Cattaneo, e sono 150 pagine, ma molto, cioè molto intensa, ecco, questo è un altro libro che secondo me ha valore. Poi sai, io non ho mai fatto politica attiva, ma sono sempre stato collocato politicamente, perché qualunque cosa tu faccia tu sei sempre politicamente collocato, è chiaro che a Trento mi hanno chiamato perché ero considerato un professore abbastanza razionale, gli studenti mi consideravano un professore rivoluzionario, e poi dopo un po' così tutta la mia vita. Senta, senti, l'Italia ed i giovani, che sono il nostro futuro, secondo me i ragazzi di oggi sono più svegli, studiano, parlano le lingue, viaggiano, però vedo che ci sono meno movimenti culturali, meno fermento artistico e intellettuale, vedo più mode. E a proposito, dov'è finita Greta Thunberg? Ma io non so dove è finita Greta Thunberg, povera ragazza, l'hanno un po' snorbata, poi mi sembra lasciata da parte, anche se in parte ne è colpa del Covid. Per quanto riguarda i giovani, sai, è così in tutte le epoche. I giovani, difficili che si manifestano durante la loro età, vengono fuori dopo. I giovani di oggi hanno un patrimonio che le altre generazioni non hanno, hanno una lingua diversa. Devo pensare che internet, tutto ciò che è connesso con internet, è una lingua diversa. Essi parlano una lingua diversa, non dico dalla tua che sei più giovane, ma dalla mia, certamente alla mia età della mia età. E parlano così in tutto il mondo, che siano un peruviano, che siano un italiano, un siciliano, non cinese. Questo darà un grande risultato domani, ma oggi impedisce che ci sia una comunicazione vera, perché noi tutti non abbiamo la stessa lingua. La lingua del web è una lingua criptica, è una lingua che si impara da piccoli. È come se improvvisamente tutti parlassimo il cinese e tutti parlassimo il turco. Però alla fine questa gente parlerà e vedrà che costruiranno delle cose importanti. Per ora sono spesso alla ricerca, per ora sono spesso perplessi. Oggi devono essere motivati, aiutati, spinti, dai, soppregati, andiamo a fare che poi si fa. Sei soddisfatto della tua vita? Qualche rimorso? Soprattutto il sasso nella scarpa ad allevarsi al momento giusto? No, i sassi non ne ho. I rimorsi ne ho sempre, perché ho avuto una vita emotiva, matrimoniale, emotiva, molto, molto travagliata. E ogni volta che tu hai dei grandi amori, dai e produci delle delusioni e ti resta sempre in qualche modo un'amorezza di ciò che non hai fatto, che avresti potuto fare. Però sono contento della mia vita, perché l'ho vissuta intensamente e come si usa a dire, ho voluto delle cose, ho pagato per averle. Adesso una cosa più simpatica. La figuraccia peggiore che hai fatto? No, l'errore peggiore che ho fatto l'ho fatto a Trento, perché non pensavo, ho calcolato male, che il numero di studenti che sarebbe arrivati l'anno dopo sarebbe stato immenso e che per di più il governo non avrebbe dato i salari, voglio dire. Quindi mi sono trovato in una situazione dove erano molti studenti senza soldi. È una brutta situazione ed è un errore mio. Invece il tuo maggior successo? Probabilmente il mio maggior successo, oltre a Innamoramento e Amore, questi libri sono ormai dei classici, ma se devo dire una cosa che mi è piaciuta, io ho costruito, ho inventato un'università, lo Yulmer. Un bel successo per davvero. Parliamo del tuo ultimo capolavoro di cui abbiamo accennato prima, Il rinnovamento del mondo, 1989-2019. Un libro che ho letto e che consiglio non solo ai grandi, ma anche ai bambini, onestamente. Perché leggerlo? Ma io penso che, perché è un libro che dà un'idea della storia, dà un senso alla nostra epoca. Io ho l'impressione che è successo qualcosa tra il crollo del muro di Berlino, cioè dell'impero sovietico-americano, insomma. La grande ondata ugualitaria che si esprimeva nel facciamo un unico mercato, vendiamo tutti, ci arricchiamo tutti, tutti sono uguali a tutti, uno uguale a uno. Poi però c'è Zupping e Berlino, che vuole 800 milioni tutti insieme. Questa orgia di inventività, ma anche di sfruttamento, anche di imbroglio, anche di sfrenatezza, che era sul punto di produrre, e già si produceva delle catastrofi economiche, e che poi curiosamente è stata interrotta dalla corda più banale, la natura ti ha ferito. Il disordine si è manifestato come malattia, e io ho l'impressione che siamo entrati in una nuova fase di ricostruzione, di ricostruzione delle istituzioni, di ricostruzione del ragionamento, di ricostruzione dell'elite politica e culturale. Perché in questo momento non abbiamo delle grandi elite, neanche culturali, con tutti i vecchi, i grandi scienziati, i studiuti, i musicisti, tutti i vecchi, non dico la mia età, ma certamente siamo lì presso a poco, e mentre invece poi ci sarà una generazione giovane che non conosciamo ancora. Ultima domanda. Il sogno nel cassetto. Il tuo sogno nel cassetto. Vedi, io sono resto in fondo uno studioso. L'essenza della mia natura è lo studioso. E se vorrei avere davanti a me dieci anni ancora, per poter fare un ultimo sforzo, parlando del tema dell'amore, in tutte le sue sfaccettature e intersecazioni. Io ho fatto tanti studi, ma anche approfonditi, anche belli, sai, anche belli. Però è sempre come se tu guardassi il primo oggetto, poi un altro, poi un altro. Vi sono dei misteri nell'animo umano, che io esplorerei volentieri ancora, e se fossi capace, mi scriverei una cosa poetica. Speriamo più di dieci anni a questo punto. Grazie di essere stato con noi, il professor Francesco Alberoni, il personaggio della Porta Accanto, regista Omar Agresti. Arrivederci. Grazie.